20 anni di emozioni con l'acqua e le maraton presidente tutto pronto per domenica quanti sono complessivamente gli iscritti in questo momento sono circa 1.400 con tutte e tre le gare 650 con la maratona poi ce ne sono oltre 600 da sulla mezza e poi c'è la camminata allo a rimba che saranno circa più di 300 organizzata da tania campanelli insieme al fratello terri che va a beneficio dell'ail diciamo ecco per i malati di tumore e poi c'è a 10 km che contiamo di arrivare circa 200 quindi anche lì corsa camminata quindi per diciamo un'opportunità per tutti per muoversi la gara principale come da tradizione partirà da barchi a che ora tutte tre le gare partiranno alle 9 del mattino di domenica 5 maggio e per l'alf quest'anno c'è un riconoscimento importante quale sì grazie alla federazione che ci ha riconosciuto come maratona dei valori ci hanno dato la maratona para olimpica sulla mezza per la prima volta in italia quindi abbiamo veramente qualcosa di importante vorrei mandare un messaggio a quelli che sono sulle strade di avere ecco soprattutto rispetto per questa gente che si mette in gioco nonostante ecco le difficoltà che ha noi ci teniamo tanto erano due obiettivi importanti la solidarietà e trasmettere ai giovani uno sport importante come il nostro il movimento ma ogni disciplina è utile per i ragazzi da dove partiranno partiranno da mondolfo la parolimpica insieme alla mezza maratona quindi da mondolfo alle 9 passeranno per san costanzo per il borgo e poi arriveranno a fano all'arco d'augusto come tutte tre le gare a fano nel centro storico ci sarà anche un'altra iniziativa nel centro storico abbiamo una cosa è un'iniziativa importante diciamo è stata un'idea di lorenzo campanelli insieme a cerbara che hanno ci sarà una camminata in attesa delle gare che partirà la piazza 20 settembre circa alle 9 e 9 20 arriveranno all'arco d'augusto è un modo un ritrovo di disabili per dare valore alla maratona dei valori invece per quanto riguarda la viabilità ci sono delle indicazioni da dare dunque sulla viabilità ecco ci sarà chiaramente la strada chiusa c'è una una procedura organizzata dalla da tutti i comuni e soprattutto dalla prefettura saranno chiuse le strade ci sono i segnali sul percorso dove dicono gli orari quindi chi si vuole muovere prima oppure dopo naturalmente però questa è una gara internazionale abbiamo rispetto nelle gare nazionali come le nostre è chiusa traffico completamente noi abbiamo rispetto anche per non creare disagi alla gente che cammina che si vuole muovere però l'importante che rispettano gli orari quest'anno celebrate il ventennale anche mediante un libro quanti sono stati negli anni volontari anche gli sponsor che vi hanno aiutato se siamo arrivati a vent'anni dobbiamo dire grazie a soprattutto i volontari oltre 300 volontari ma volevo ecco soffermarmi un attimo sottolineare qui c'è un comitato di gente straordinaria di colle marathon club anche e ma 15 gruppi sportivi che ci sostengono da vent'anni e qui c'è la protezione civile ci sono tutte le pro loco specialmente fanno che organizza l'arrivo sono delle gente della gente io li chiamano uomini speciali che fanno la differenza e veramente dobbiamo dire grazie a loro purtroppo nel libro abbiamo dimenticato un personaggio importante che fa parte del comitato si chiama domenico spadola che viene da biella e da 20 anni ci sta aiutando però è stato un errore che non abbiamo ecco messo sul libro lui è un ex atleta che alla nostra passione è questo ex atleta nazionale di mezzo fondo quindi anche lui ecco però ci rammarichiamo perché non l'abbiamo ecco inserito e su questo volevo sottolineare perché è un personaggio che ci dà una grossa mano di esperienza e di passione grazie a tutti grazie grazie